Un murales che occupa un'intera facciata in bella vista proprio all'ingresso dell'Istituto Tecnico Lorenzo Mossa, dove spiccano personaggi identificativi di una identità sarda come Eleonora d'Arborea e Granchi visti nella forma pittorica immaginata da Michele Corriga. Personaggi che sono dell'oristanese, che fanno parte della nostra cultura, fanno parte della nostra storia e cerchiamo di valorizzarlo in questo modo. Siamo una scuola e quindi abbiamo iniziato con Antonio Gramsci e con la sua Istruitevi perché abbiamo bisogno di tutta la nostra intelligenza che è Gramsci un po' pop. L'abbiamo fatto un po' parte perché abbiamo voluto attualizzarlo, nel senso che Gramsci non è vissuto cento anni fa, vive adesso, continua a vivere, continua a vivere con il suo pensiero. Realizzati da 30 alunni dell'Istituto che hanno aderito all'iniziativa promossa dalla dirigente scolastica Marillina Meloni e divisi in due gruppi da 15 coadiuvati da Lauretta Ardu e Teresa De Plano. Un progetto che si chiama Inclusive Art ed è alla sua seconda edizione. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso dove abbiamo realizzato un anamorfismo, quest'anno invece ci siamo cimentati in un lavoro molto più impegnativo che è, diciamo, d'impatto all'ingresso della scuola. Quindi è un insieme di tante immagini. Il messaggio finale è quello di abbellire la nostra scuola, di renderla una scuola inclusiva, di star bene a scuola. Quindi abbiamo lavorato molto anche sul clima di studio, sul clima che c'è all'interno della scuola. Il completamento dell'opera è previsto per i primi giorni di maggio.